La firma dell'accordo di oggi è un momento importante perché consente di inserire a pieno tito nei nostri tavoli che a breve verranno convocati in assessorato anche l'associazione Città dell'Olio. L'approccio che stiamo dando al tavolo di lavoro è proprio quello di affrontare le criticità e i problemi dei settori a 360 gradi. Riteniamo che produrre prodotti di qualità, quindi come la Sardegna vuole fare, sia fondamentale per le nostre aziende per dare maggiore competitività alla nostra azienda e ai nostri prodotti. Per questo motivo gli aspetti del paesaggio sono assolutamente un tassello strategico. Ecco perché il lavoro congiunto tra assessorato all'agricoltura, assessorato agli enti locali e all'urbanistica ed ecco perché l'associazione Città dell'Olio è ritenuto uno dei soggetti che devono partecipare al progetto di rilancio del settore. La qualità del nostro olio è eccellente grazie anche al lavoro che stanno facendo i nostri produttori. Un lavoro che va sicuramente potenziato attraverso i consorsi di tutela che dovranno lavorare sfruttando le opportunità dei progetti che possono essere attivati con il programma di sviluppo rurale per la promozione e per il miglioramento ulteriore della qualità. È un accordo che vede la regione impegnata insieme con i comuni che fanno parte dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio. Si tratta di un'associazione di comuni basata su questo elemento, cioè una forte vocazione olivicola, produttiva, con elementi di paesaggio molto interessanti, che rappresentano dei partner per la regione interessati a promuovere i paesaggi rurali, quelli caratterizzati dalla tipicità olivicola, della presenza di ulivi, il che fa ben sperare su una futura collaborazione nella promozione dei prodotti e dei territori.